Risultati conseguiti, obiettivi e investimenti. Nella sala del Consiglio Comunale di Mondolfo è stato stilato il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia Locale in occasione della festa del patrono San Sebastiano. Il corpo, che conta 11 agenti più l'assunzione estive per implementare i controlli, nel corso del 2022 ha elevato 1.485 sanzioni per violazione del codice della strada per un importo complessivo di 143.800 euro. 8 le patenti ritirate e più di 1.100 i punti decurtati. Le contravvenzioni più comuni riguardano la sosta irregolare e l'alta velocità. Sono 42, invece, i sinistri rilevati contro i 55 dell'anno precedente, di cui 23 con lesioni alle persone e 19 con soli danni alle cose. Grande attenzione anche agli aspetti ambientali con 24 controlli eseguiti sul conferimento dei rifiuti e 14 sulla corretta manutenzione delle aree agricole prospicenti l'abitato. Sul fronte della sicurezza, poi, sono stati 76 servizi in occasione di manifestazioni, 10 preventi sportivi, 159 per la gestione di mercati e fiere, 98 per il controllo e posizionamento della segnaletica, 37 gli interventi di contrasto in tema di stupefacenti e 7 gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori. Numeri importanti, quelli illustrati dal comandante Donati, 47 anni, che ha preso servizio il primo ottobre scorso dopo l'ultima esperienza nel corpo del comando di Rimini. Il comandante ha presentato i risultati a partire dai dati inerenti all'attività di Polizia Amministrativa per sottolineare l'aspetto della prevenzione. Polizia Amministrativa, forse poco considerata in ambito delle polizie, ma è l'avamposto un po' della sicurezza. Con la Polizia Amministrativa in ambito autorizzativo e di controlli si mira proprio a prevenire e a evitare conseguenze peggiori o conseguenze comunque negative con l'attività che verrà svolta. Anche nelle scuole? Anche nelle scuole, certo. Noi facciamo presenza tutti i giorni, siamo lì a garantire l'attraversamento delle scuole insieme ai nostri collaboratori che sono quelli della protezione civile e quindi la prevenzione prima di tutto. Anche quest'anno in estate è stato svolto anche un particolare servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei plessi scolastici, in adiacenza ai plessi scolastici e nei parchi pubblici. A caratterizzare l'azione sul territorio, proseguito Donati, sono e saranno la sicurezza urbana e la civile convivenza. Una serie di comportamenti, anche poco civili, che comunque incidono sulla percezione della sicurezza. Quindi quello insieme alla civile convivenza, che è l'obiettivo da raggiungere, sono un po' i nostri obiettivi. A ringraziare il corpo, il sindaco Nicola Barbieri e l'assessore alla polizia locale Raffaele Tinti. Questi risultati, ha commentato il primo cittadino, sono il frutto di un grande lavoro di squadra. Alcuni servizi sono meno visibili alla cittadinanza, ma comunque importanti per la comunità. Abbiamo ripilogato quelli che sono stati i risultati del 2022, ora ci siamo dati come corpo di polizia locale, come amministrazione comunale, diversi obiettivi sulla sicurezza stradale. Quindi migliorare la sicurezza stradale, migliorare la viabilità su alcune zone del territorio, maggiore presenza anche nei quartieri. Cercheremo anche di partecipare a diversi bandi che ci saranno per quanto riguarda la videosorveglianza, per implementare anche il servizio di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Quindi è stato un momento importante oggi per epilogare anche quelli che sono gli obiettivi di quest'anno. Assessore, investirete anche sui mezzi di cui usufruisce il corpo? Sì, abbiamo in programma di aumentare i mezzi in dotazione al nostro corpo della polizia locale. Sicuramente acquisteremo un altro mezzo adibito ai controlli stradali e soprattutto investiremo anche in software e materiale tecnologico da utilizzare in ufficio, quindi per il personale amministrativo e addetto, in maniera tale da migliorare il lavoro quotidiano e il lavoro di raccolta dati e di raccolta di informazioni. Un aumento però anche dei controlli? Sì, questo sarà importante perché anche grazie all'aumento del numero degli operatori che avremo a disposizione aumenteremo i controlli sul nostro territorio, sulle strade principali, sul controllo della velocità degli automezzi, sia sulle strade interne e soprattutto sul lungomare. In particolare nel periodo estivo dove la popolazione aumenta enormemente, ci sono stati anche degli episodi in passato che hanno creato dei problemi e di conseguenza non vogliamo che si ripetano più, aumenteremo i controlli sia sulle strade sia sui locali. Grazie. 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 Grazie.